Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e bentornati su Terraria Come potete vedere i Goblin mi stanno invadendo nuovamente purtroppo Questo mi fa tornare in mente a una cosa Vi ricordate cosa ho detto la scorsa volta che i Goblin hanno invaso? Allora, senza morire però, non voglio morire neanche una volta Cavolo Ecco, non lo ripeterò più Comunque, questi Goblin mi stanno leggermente facendo il culo Soprattutto quando spawna il Goblin Sorcerer Lo stregone, quello fa davvero molto molto danno Comunque curiamoci, yeah Non ho intenzione di usare pozioni perché non ne vale la pena Comunque ragazzi, prima ho affrontato uno stregone e mi ha droppato questo Roofless Shadow Flame Bow Purtroppo è uscito Roofless ma chi se ne frega, tanto non lo utilizzo Però è forte, è davvero figo Mi piace, mi piace Eh, sempre meglio Del, del Dedalus Stormbow Che è troppo OP, è davvero un'arma Assurda Come ho già ripetuto in tantissimi video Ragazzi, sicuramente vi siete stufati Eh, di sentirmi dire Il Dedalus Stormbow è fortissimo Sì, sempre la stessa pappardella Comunque, non credo che lo utilizzerò più Perché molti mi hanno detto Ehi, guarda che è troppo forte Rovini le boss fight E in effetti ragazzi, avete più che ragione Avete davvero ragione Quindi ragazzi, non credo che lo utilizzerò più Eh, magari questo, dai Questo è figo Mi piace Comunque ragazzi, ho pescato un po' Eccolo che è spawnato, cavolo Ho pescato un po' per trovare il Prismite Che è un pesce che si trova nell'aulo Che ci permette di fare la Life Force Potion Eh, ho trovato anche delle crate Ah, è già morto? No, peccato Comunque ho trovato anche delle crate Che mi hanno droppato una, un Aglet Quindi sono stato estremamente culone Perché ora posso tranquillamente craftarmi i Lightning Boots E l'altra invece mi ha droppato l'Enchanted Sandial Quella che fa schippare al giorno dopo Davvero figa questa cosa Mettiamo qui Ok, vediamo un po' di ammazzare questi qua Mi stanno dando fastidio The Arms Dealer Ah, giusto ragazzi Ora possiamo anche craftare il Mega Shark Quindi amazing Davvero fantastico Con cui batteremo The Twins Quindi ci prepareremo Comunque ragazzi Ora possiamo combinare i nostri Spectre Boots Con l'Aglet E con la caviglia del vento Che non mi ricordo come si chiama in inglese Eccola qui Ehm, Anglet of Wind Fantastico E ci facciamo i Lightning Boots Fantastico Perfetto raga Ora corriamo un po' più veloce Ehm, allora aspettiamo la notte Perché così ci craftiamo il Mega Shark Ehm, non credo che questa notte Ehm, affronteremo The Twins Ma nella prossima Anche perché Devo ancora trovare Gli ingredienti per il richiamo Perché non ce li ho Se non sbaglio mi servivano Cinque anime della luce Cinque lenti O sei Boh, non me lo ricordo E anche del barre di ferro Si dovrebbe essere così Ehm, forse è meglio cominciare a prendere il ferro Perché ragazzi Sono sicuro al 100% Che io non ce l'ho il ferro Sono sicuro No No, no, no Non ce l'ho Pazienza Quindi Oddio cos'era No, è Tin Quindi ci prendiamo una Spelunker Andiamo a cercarne un po' Ci serve urgente Quindi Oddio Eccola Life Force Fantastico Aumenta la vita del 20% Facendo il calcolo Mi da Mi da 480 vita Si 480 Wow, no Non so se la utilizzo Ma ragazzi Non credo che la utilizzo per The Twins Perché Anche questa È una pozione troppo forte È tutto troppo forte Su Terraria ormai ragazzi È tutto troppo forte Credo che La prossima run Che faremo Sarà abbastanza più difficile Magari ci mettiamo di mezzo Un Armorless Poi decidiamo Se magari farla Medium Core Oppure Expert Ma no No raga Perché ragazzi In Expert Senza armatura Fanno un casino di danno È davvero troppo Quindi Devo fare la spelunca L'ho già fattata No? Quindi La facciamo subito Poi imbrulisco l'inventario Ora Non ne ho proprio voglia Ecco già del ferro qua Lo vedo sempre Però Non voglio bucare qua vicino Mi da fastidio Poi devo raccogliere dei cristalli Si ragazzi Racoglieremo anche dei cristalli Per I crystal ballet Oddio Vabbè mi fotodanno lo stesso Non fa niente Quanti ce n'è Bellissimi Ecco qua il nostro ferro Dovrebbe bastarci Però Se ne cerco altro È meglio Ma Non ne vedo qua vicino Non so se ne ho Troppa voglia Di cercarne I pistrelli Lumionti No State lontani Di solito qua Ci trovo sempre Un mimic Benedetto C'è C'è quasi sempre Spawna Sempre nello stesso punto Non capisco il motivo Però Vabbè Oh mi ha protetto Lo shadow dodge Ecco del ferro Ragazzi Mi sorprendo sempre di più Di quanto sia potente Questa armatura Muori Allora Ah si è notte Prendiamo Le parti di Di pistole illegali Dove Dove Eccolo qua Ecco qui L'anime del potere Dovrei averle qui Prendiamo anche Le nostre barre Fantastico E craftiamoci Il nostro Mega shark Dove sei Dove sei Cavolo Mi manca il mini shark Me ne Mi sono ricordato ora Quindi Prendiamoci anche il mini shark Ok Fantastico Raga Ricordo quando lo usavo Molto spesso Ecco Ma mi manca Lo stesso qualcosa Cosa mi manca Cosa mi manca Cosa mi manca Cosa mi manca Ragazzi Mi ricordo quando usavo spesso Il Il mini shark Ora non lo uso più Perché Sono Ci sono gli yo-yo Ah 5 pinne di squalo Cavolo Raga Proprio non me la ricordavo Questa ricetta Quindi ora andiamo Nel Nell'oceano E ammazziamo un paio di squali Ragazzi Ci ho messo Un giorno E una notte Su terraria Ragazzi Non spawnavo uno squalo Per 5 o 6 minuti Di fila E alla fine Ci ho messo un sacco Di tempo Che palle Comunque ragazzi Ora possiamo Craftare il mega shark Eccolo qui Fantastico È uscito Strong Buono Però ragazzi Noi lo vogliamo Unreal Che è il massimo reforge Per le armi Range Quindi Assolutamente da fare Oh no No Stiamo andando già male Non va bene Strong di nuovo E dai per favore Oddio Questi sono i miei ultimi Sono i miei ultimi 15 gold Per favore Un reforge buono Heartful Eeeh Eeeh Va bene Va bene Dai Ce lo teniamo così Sempre meglio di strong Perché tanto I boss Non subiscono knockback E quindi è pressoché inutile Eeeh Allora Cosa possiamo fare ancora Hmm Vediamo un po' Ah si dare questa cavolo Di strange plant Per vedere Cosa ci regala Di buono Il die trader Reflective Silver die Dimmi che non ce li ho già Per favore Ma mi pare di si Dimmi che non ce li ho già Ti prego Dove ce li ho i die Eccoli qua Eh si ce li ho già Vabbè Non fa niente Dai Comunque ragazzi Controlliamo Eeeh Quanti cristalli servono Per fare un certo tot Di Crystal bullet Vediamo un po' Ne servono Ah con un cristallo Ne fai 100 Eeeh Quanti ne escono così Vabbè 600 Perché Ho un limite Nel mio compagno di più Ne escono altri mille Praticamente Si Eh però Direi di andare a prenderne altri Per averne un bel paio Ragazzi sono stato Molto fortunato Ad avere La L'allow Proprio sotto casa Sono incastrato Wtf Ok Ecco qui Oddio Non mi avrai Muori Mi prendiamo un altro paio Tu devi morire Perché Non c'è da fare niente In vita Sei proprio Inutile Come non so cosa Eeeh Eccolo Ovviamente Fa più danno Allo yo-yo Però Non va così lontano Quanto va il mega shark Perché Giustamente È un arma ranged Ecco ragazzi Così dovrebbero Anche bastare Ne compriamo Ne compriamo Un bel paio Eccoli qua Un altro po' Ora craftiamo Dove sono Dove sono Quelli qua Ok ragazzi Dovrebbero Bastare Si ma Ne avanzeranno Un sacco È solo la mia mania Di farne tantissimi Però Basteranno Allora Io direi di pulire Il mio inventario Perché così Fa leggermente schifo Non riesco a capire niente Ok Così è più o meno A posto Però ci mancano Lo stesso Delle lenti Che Ora prendiamo No Ma davvero Ma davvero Questo è un mimic No Non ci credo Ragazzi Come ha fatto A spawnare Qui Wow No Speriamo che mi droppi Il cross necklace Intanto ha fatto giorno Quindi niente Eccolo qui Ragazzi Non capisco Per quale motivo È spawnato Qui Comunque Fantastico Ti prego Droppami Il cross necklace Per favore Per favore Per favore Per favore Droppalo No Raga No Il titan glove Peccato Peccato Mi sarebbe stato Oh 23 gold Wow Mi sarebbe piaciuto Di più Un cross necklace Mi serve urgentemente E la mia voglia Di farmare È molto Bassa Comunque Comunque ragazzi Purtroppo Non abbiamo ancora I materiali Per fare Questo cavolo Di richiamo Ecco una lente qua Due Se ne servono Cinque Se non sbaglio Ora controlliamo Dove sei guida Ogni volta vi trovo In un posto diverso What the fuck Ne servono Tre Solo Solamente tre Ma davvero Ti prego Dimmi che ho una lente Qui da qualche parte Controllo bene Perché mi è capitato Varie volte Di cercare qualcosa Penso che io Non lo abbia Poi quando guardo La registrazione Ce l'ho E allora Mi dico Che stupido Quindi forse È meglio Cercare davvero Bene Ti prego Spunto da fuori Da qualche parte Ci devi essere Qua abbiamo una lente nera Con cui crafteremo L'optic staff Ovviamente Quando avremo battuto Questi gemelli Cavolo Non ce l'ho Raga Cavolo 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 Eh no Raga Dobbiamo aspettare Per forza La prossima notte Dovrei fare in tempo Anche a battere I gemelli Nella stessa notte In cui farmo La lente Almeno credo Quindi prepariamoci Già I materiali Poi anime Della luce Oddio Eccole qua Eh sì ragazzi Ci manca solo La terza lente Oddio ragazzi È spawnata La party girl Ho visto Ora il messaggio Quindi Compro tutto Raga Compro tutto Vieni qua Party girl Allora Facciamo così Prendiamo il party center E lo attiviamo Così mi vende più roba Qui 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 Ok Fantastico Tutti Sono entrati nel party E ora Oddio Che figata Raga Che bello Fireworks box Questo se non sbaglio È collegato a un timer Spara sempre fuochi d'artificio Però Non ho soldi Raga Non ho soldi Io voglio comprarle Queste cose Mi piacciono un sacco Allora Cosa possiamo vendere? Beh direi Questo 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 Non mi serve Questo ce lo doppio Questo ce lo doppio Questo ce lo doppio Metal detector Ce lo doppio Sì ragazzi Ho incontrato Due Nymph Poi Un paio di queste Tanto non me ne faccio niente Cosa me ne frega Dov'è la party girl Oddio Cosa state facendo? Via da lì Sporcaccioni No Non Non volevo te Oddio ragazzi Ma Ma c'ha il codino Il die trader Non lo sapevo Non l'ho mai visto Col cappello non si vede Che figo Wow Poi le nostre Blessed apple Questo 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 43 ori Buono Quindi Spendiamo due di questi Poi Oh i palloncini costano così poco Questa no Costa troppo Però hanno soldi Un po' di questi Così li metto nell'arena Decoriamo l'arena Ragazzi Ora decoreremo l'arena In attesa Della notte Ecco la meccanica Allora I cavici li ho già Quindi devo solamente Comprare I timer No I timer si craftano Cavolo I timer si craftano Come posso fare Mi sono dimenticato che i timer si dovevano craftare Quindi per ora li metto E poi vedremo cosa fare Crafterò i timer Quindi mettiamo uno qua No Facciamo bene i calcoli ragazzi Dobbiamo mettere più o meno al centro Che si vedano entrambi Quindi facciamo uno qui E uno qui Anzi compriamo una leva Vediamo un po' La meccanica qua su Mi dimentico sempre Quindi ecco una leva Fantastico Poi ragazzi vedrò di craftare i timer Anche se non ne ho molta voglia Purtroppo Facciamo passare qua sopra Altrimenti ci spegne tutte queste cose E non va bene Facciamo una prova Uhuh Bello Però raga Poi non vedo Non vedo i fuochi Quindi è meglio qui E facciamo Così Che schifo Fantastico Quasi quasi ne compro degli altri Tanto per Per sputtanare soldi Raga Solo per questo Tu non dovresti esistere Partygirl Sei Vendi cose troppo belle Le cose più belle del gioco Le vende lei Oddio Consumero tutti i soldi Che trovo ogni volta Con queste stronzate Allora Aspettando con tanto Con tanta ansia Ho già pronti i buff Quindi non mi devo preoccupare Mettiamoci bene Le cose per combattere Questa non mi serve a niente Ora Questo lo lasciamo Anche la Anche la Anche la Lice cycle 21 gold Che vanno conservati Perché li spreco tutti Li perdo comunque Bene Comprando ste schifezze Però dai Peccato Per una lente Non potevo Batterlo subito Quindi dovremmo aspettare Poco 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 Se potessi trovare Una cavolo di lente Mi farebbe un favore Il gioco Però non me lo vuole fare Non vuole aiutarmi Ti prego Dropami una lente Cavolo Alleluia ragazzi Perfetto Siamo pronti Siamo pronti Non fa niente Potrei Potrei anche perdere Perché Non mi Non sono proprio Armato Bene Però Yolo Raga Yolo Yolo Ok Allora il moveset Dei the twins Me lo ricordo abbastanza Quindi non dovrei avere Troppi problemi Allora prima Spasmastism Che è meglio Perché Poi quando si trasforma È un casino Quindi muori Non fa niente Per questi colpi No invece fa cosa Raga fa cosa Mi fa troppo danno Fa troppo danno Questo boss Oddio No Devi morire Devi morire Proprio male Devi morire Ok Abbiamo già la vita Un po' Un po' Messa male Direi Direi molto Messa male Non va bene Oddio Sono anche Infuocato Il debuff Delle fiamme maledette Che dura un bel po' Rispetto a quello normale Dura un bel po' Ok si è trasformato Raga si è trasformato Niente panico Niente panico Quando sono il primo A A morire Di panico Ok 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 Fantastico Cavolo Oddio No 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 Oddio Muori schifoso Lezzo 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 Muori Muori No Ok ragazzi Quando fa così Meglio stargli alla larga Ok Perfetto No Mi ha fregato lo shield of cthulhu ragazzi Perché Non sempre Gesù cristo Non sempre Va bene Non sempre Fa quello che vogliamo Muori cavolo Muori 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 Oddio Muori 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 No Devi morire E' morto Grazie 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 Pozione Pozione Oddio Dove sono le mie pozioni Oh Fantastico Ragazzi No Non combattevo così da tanto Fantastico Fantastico Ragazzi Prima non trovavo le pozioni Perché Mi sono Dimenticato Che avevo Il Tasto settato Sul tasto Laterale Del mouse Perché Mi sono comprato Un nuovo mouse Da gaming E ho messo la cura Nel Nel tasto Laterale E me ne sono Dimenticato Oddio Ragazzi L'adrenalina Non potete capire Però E' davvero Fantastico Ok Non sottovalutiamo Retinazer Perché Inexpert Spamma Alla fine Spamma Molto Anche in normal Però Inexpert E' davvero Assurdo Ragazzi Ecco Non sta Neanche Morendo Ora No E' troppo Veloce Raga Cazzo E' troppo Veloce Muori 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 3000 Molto Di più Rispetto A quando Usavo Il dead Allo Su strombo Devo Ammetterlo Quindi Basta Quell'arco Wow Ragazzi E' stato Fantastico Non giocavo Così da tanto Apriamo La nostra Treasure Bag Ecco Il nostro Soul of Sight Credo che Nel prossimo episodio Ne affronteremo Un altro Forse Non lo so Comunque Ora Abbiamo da Craftare La Optic Stuff Cosa possiamo Craftare Di bello Che non me lo ricordo Vediamo un po' Questa cosa Cos'è Rainbow Rod Ma era Diverso Hanno cambiato Lo sprite Non era Così Wow Si hanno Cambiato Lo sprite Wow Comunque L'optic Stuff Mi piace Un sacco Anche Il sensore Si Con questo Comunque L'optic Stuff Mi piace Quindi Credo che Crafteremo Questa Mi servono 12 Allo red bar Due lenti normali E va a quel paese Che cosa Madonna Allora facciamo così Ammazziamo questi due Almeno uno dei due Mi dovrebbe droppare Una lente Per favore Per favore No invece no Perché non mi droppano Mai lenti Perché Ok ragazzi Affatto giorno Quindi niente Optic Stuff Per ora Però Possiamo Craftare Il mine Cart Quello Figo Dov'è 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 Oddio le pompe Anche Come Con il ferro Ecco qua Mechanical Cart E allora E qui Facciamo qui Così ogni volta che saliamo In un rail Ora Ve lo faccio anche vedere Ogni volta Che saliamo in un rail Ci dà questo minecart Meccanico Che è molto più figo Va molto più veloce E fa anche molto più danno Guardate quanto è figo Ma è assurdo E se non sbaglio Spara anche dei laser Da davanti Quando incontra i nemici Ora non ricordo Non ricordo bene Però è figo raga Bello Bello Comunque ragazzi Questo episodio è stato Fantastico Spero che vi sia piaciuto Se è stato così Lasciate un like E commentate Da Gmett è tutto Ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti